Accedere alla modalità provvisoria per risolvere i problemi sul computer HP in uso quando Windows non si riavvia. Spegnere il computer, quindi riaccenderlo. Sulla tastiera premere immediatamente e ripetutamente Escape fino a quando non viene visualizzato il menu Avvio. Premere F11 per selezionare Ripristino sistema. Nella schermata, scegli un'opzione, selezionare Risolvere i problemi, opzioni avanzate e quindi Impostazioni di avvio. Potrebbe essere necessario selezionare Vedi più opzioni di ripristino per visualizzare le impostazioni di avvio. Fare clic su Riavvio per riavviare nel menu Impostazioni di avvio. Premere F4 o selezionare Abilita modalità provvisoria per riavviare Windows usando file e driver minimi. Premere F5 o selezionare Abilita modalità provvisoria con rete per riavviare Windows in modalità provvisoria, ma con driver e servizi di rete e aggiuntivi per accedere a una rete locale o a Internet. Se richiesto, accedere a Windows. Per uscire dalla modalità provvisoria, riavviare il computer. Io ora ie qu 인� afraid. mantra per uscire divini Grazie a tutti.